Dopo più di 25 anni torna una delle serie più controverse ed innovative del panorama televisivo. Twin Peaks, magistralmente diretto dal geniale David Lynch, scritto in coppia con Mark Frost, arriverà sul piccolo schermo nel 2017. Per i cultori della prima serie saranno tantissimi i volti familiari, da Harry Dean Stanton al protagonista Kylie McLaughlin, che vestirà nuovamente i panni dell'agente Dale Cooper, a Sherilyn Fenn, che sarà ancora una volta la spregiudicata Audrey Horn. All'epoca la serie fu interrotta abbastanza bruscamente a causa di un inesorabile calo di ascolti e moltissimi misteri rimasero irrisolti. Nel corso del tempo Twin Peaks è diventato un vero e proprio cult e più volte è stato annunciato un sequel che purtroppo però non è stato mai girato. Tutto questo fino ad ora, perché finalmente tra poco potremo assistere alle nuove puntate. Una grande sorpresa per tutto il pubblico italiano e anche per quello estero. Nel cast sarà presente anche la splendida Monica Bellucci, che, reduce dai successi di 007 e Spectre, si appresta a stupire i suoi fan in una veste inconsueta. Ma oltre a Monica Bellucci saranno moltissime le star presenti nella nuova serie di Twin Peaks. Grandi nomi come Naomi Watts, Ashley Judd, Amanda Seafried e soprattutto Tim Roth, reduce dal successo di The Eightful Eight di Tarantino. Insomma, un cast d'eccezione per una serie che ha contribuito a fare la storia della TV. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.